Lo Stato attuale è eccellente perché l'Italia è attualmente il secondo Paese in Europa per numero di trapianti, grazie al notevole incremento che c'è stato nelle donazioni d'organo che ha raggiunto un valore assolutamente in linea con gli altri Paesi europei, anzi ha superato molti Paesi europei, tradizionalmente l'Italia negli anni 90 era un po' il fanalino di coda, oggi non è più assolutamente così, in Italia si eseguono ormai stabilmente da almeno 4-5 anni circa tra i 1000 e i 1100 trapianti di fegato all'anno, vengono eseguiti attraverso la rete trapiantologica che comprende 21 centri trapianto, purtroppo questo numero è ancora insufficiente rispetto alle necessità perché la lista d'attesa è ben più ampia e quindi questo comporta ancora un problema di accessibilità sufficiente ai trapianti. i risultati sono particolarmente buoni perché per patologie che hanno un'aspettativa di vita a 5 anni minima abbiamo mediamente delle sopravvivenze dei pazienti comprese tra 70 e 80%, quindi risultati straordinari che sono certamente merito delle echippe chirurgiche italiane che sono di primissimo livello e poi dell'organizzazione patologica di supporto del pre e del post trapianto e di tutti gli operatori di questo settore. Ci sono poi certamente molti problemi ancora da migliorare, tra questi da una parte l'incremento ancora alle donazioni d'organo, in Italia c'è ancora uno zoccolo duro di resistenza all'incremento delle donazioni soprattutto nel centro sud, c'è ancora una percentuale troppo alta di pazienti, di famiglie che si oppongono alla donazione, quindi c'è ancora molto da lavorare in questo campo, però nel complesso il sistema trapiantologico italiano ha fatto enormi progressi e oggi le indicazioni principali al trapianto, tutte le forme di cirrosi epatica, soprattutto la cirrosi da epatite C, poi anche da epatite B, da alcol, le cirrosi criptogenetiche sono delle patologie che sono assolutamente curabili solo attraverso il trapianto. Poi c'è un'altra area che sta emergendo e sta diventando sempre più rilevante ed è il trapianto di fegato come cura del paziente che sviluppa un'epatocarcinoma, questo si può fare solamente in certe situazioni quando il tumore ha delle caratteristiche molto ben definite, definite peraltro nell'ambito di una esperienza italiana del Centro Nazionale dei Tumori di Milano, tant'è che i criteri oggi internazionalmente accettati a livello mondiale per ammettere un paziente con epatocarcinoma in un programma trapiantologico si chiamano criteri di Milano, quando vengono rispettati questi criteri i risultati sono assolutamente eccellenti.